Philips Electronics lascia il mercato dell'home video. Il gruppo olandese ha ceduto alla giapponese Fuani Electric per 150 milioni di euro la sua divisione operativa sul mercato dell'audiovisuale. Ora si concentrerà sul tradizionale core business nel settore degli elettrodomestici e soprattutto degli elettromedicali, che fanno registrare maggiori profitti. In questa cessione Philips punta ad una crescita del 4-6% nel 2013.